No, in realtà il taglio per quanto riguarda fuori dal sistema della sanità stiamo parlando di una riqualificazione della spesa di 2 miliardi e 202 milioni. Quindi su questi 2 miliardi e 202 milioni c'è l'impegno del governo a trovare almeno parzialmente delle soluzioni, poi ovviamente c'è il tema della sanità sulla quale un ragionamento è aperto, le regioni hanno proposto di iniziare un lavoro e un impegno anche importante sui costi standard e vedremo come si svilupperà nei prossimi mesi.